Non compra Lotta Comunista? No, grazie. Non compra il giornale Lotta Comunista? No, non mi interessa. Non la compra Lotta Comunista? No, non la compro. Non so perché. Quel signore laggiù che vende il giornale di Lotta Comunista. Questi qui sono gli stessi che 4-5 anni fa hanno appeso in giro per tutta Genova dei cartelloni con scritto anche i ricchi piangano con un'immagine di uno yacht. Che ha fatto un male terribile alla nautica. E chi ci è andato di mezzo? Sono stati loro. Perché dentro i cantieri in auto queste persone non si rendono conto che ci sono falegnami, attrezzisti, elettricisti, carpentieri, un sacco di operai. A Via Reggio, a seguito di questa cosa e del governo Monti, ci sono state migliaia di posti di lavoro persi.